Questo video riguarda i migliori 3 oli essenziali. Il vincitore della qualità è il My Jam Set di Oli. 20 aromi, lavanda, gelsomino, eucalipto, vaniglia, mastice, menta, legno di sandalo, arancia dolce, ilang, ilang, rosa, bergamotto, mela, leuca, cannella, geranio, paciuli, citronella, citronella, rosmarino, salvia, camomilla. Gli oli essenziali My Jam sono di grado terapeutico puro al 100%, naturale, non adulterato. Estratto dalle piante, conserva aromi vegetali, natura mite, adatto a tutti i tipi di pelle. Nessuna fragranza chimica nociva aggiunta, quindi dura più a lungo rispetto ad altri oli essenziali. Il kit di oli essenziali My Jam può essere ampiamente utilizzato per aromaterapia, fragranze per la casa, profumi naturali, diffusione, rinfrescamento dell'aria, vaporizzazione. Set regalo da 20 asterisco 5 millilitri, squisito e pratico ed è anche un regalo ideale per la tua famiglia, gli amici e gli amanti in occasione di compleanni, anniversari, San Valentino, Natale e altre feste. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il My Jam Oli Essential. Ciò che distingue gli oli essenziali My Jam sono la loro impareggiabile purezza e concentrazione. Naturali, senza adulteranti o diluizioni, i loro oli forniscono il massimo beneficio possibile e sono intransigenti. La maggior parte della concorrenza diluisce il proprio olio con un olio vettore economico o anche altri prodotti chimici potenzialmente pericolosi. Usiamo bottiglie di alta qualità infuse con un rivestimento colorato UV per proteggere gli oli essenziali dalla luce solare e dal degrado. Aggiungi semplicemente qualche goccia al tuo diffusore preferito o crea un detergente completamente naturale. È anche ottimo per fare lozioni, creme, bombe da bagno, scrub, candele e molto altro ancora. Il vincitore del premio è il Pure Essential Olio. Integratore alimentare indicato per il benessere della funzione digestiva. La menta piperita ha benefici anche a livello della funzionalità delle prime vie respiratorie. Assumere al massimo due gocce tre volte al giorno su una compressa nautra Pure Essential. Non usare puro senza supporto, né mischiare con l'acqua. Equivalenza, un millilitro uguale 32 gocce. Una gamma di 55 oli essenziali per il benessere quotidiano di tutta la famiglia, sono OBD, 100% puri e 100% naturali. Il nostro impegno costante garantisce prodotti della qualità più pura e naturale possibile. Pure Essential offre una gamma di oltre 300 referenze con efficacia e tolleranza dimostrate da 500 studi e test. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.